Vite Parallele, un progetto di Cascina Macondo, racconti e testimonianze di chi ha varcato la soglia del carcere, con il contributo dell'Ubi, in partenariato con il centro Okuzenko. Media Partners, Corriere di Chieri, Fita, Italia che cambia, Narrabilando Blogspot, Piemonte Mese. Se sei una radio o una testata giornalistica, puoi ancora aderire al progetto per diffondere le testimonianze prevenute. Testimonianza di Pietro Catalano, Aria Blu. Legge Florian Lanna. Il 23 novembre del 2017 ho avuto l'opportunità di partecipare alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzata dalla direzione e dall'area educativa di Regina Celi. All'iniziativa erano presenti studenti del liceo classico Virgilio, dell'Università Europea di Roma e una congrua rappresentanza di detenuti dell'istituto. Tutti i presenti abbiamo potuto riflettere sulle storie umane e artistiche di tre donne illustri, Ipazia d'Alessandria, Artemisia Gentileschi, Sibilla Aleramo, che hanno dovuto difendersi dalle violenze, variamente agite, per affermare i loro valori di libertà ed emancipazione. A margine dell'incontro ho notato una zona limitrofa alla sala teatro che riportava la scritta Aria Blu. Incuriosito, ho chiesto e appreso dagli educatori che l'Aria Blu è uno spazio polivalente situato all'interno del carcere dove i detenuti hanno l'opportunità di dedicarsi alle cosiddette attività trattamentali e di partecipare a corsi di ceramica, pittura, bricolage, scrittura creativa e culturali in genere. Ho così immaginato che il detenuto, in tale spazio, abbia la possibilità di ripercorrere oniricamente i propri trascorsi e di riappropriarsi, attraverso la memoria, della propria umanità, dei propri sentimenti e delle proprie speranze, dimensioni che, al termine dell'attività, tornano ad essere relegate nel cono d'ombra della propria irrisolta esistenza. A tale proposito, ho scritto la poesia dal titolo l'Aria Blu, dedicandola a tutti coloro che, per vari motivi, si trovano in una difficile condizione, nella speranza che possano trovare persone e istituzioni pronte ad ascoltarli. Regina Celi, Roma C'è una zona chiamata Aria Blu, in questo spazio ristretto, dove ritrovo il colore del mare e del cielo e il dondolare lieve di mia madre. Adesso ho una finestra chiusa davanti e guardo le stelle riflesse nello specchio, rotto dai sassi lanciati per fare rumore, in questo silenzio che soffoca la memoria, perduta nei giorni uguali a obbedire alla conta della sera. Nell'Aria Blu respiro ancora l'odore di zagara e gelsomino, sento il frinire dei grilli e danzo a piedi nudi nell'erba bagnata dalla brina del mattino. Passi cadenzati e tintinio di chiavi annunciano la fine del viaggio. Il fischio del treno è un ricordo lontano. Il rumore secco della porta di ferro chiude il giorno delle notti a venire. Avete ascoltato chi ha varcato la soglia. Testimonianza di Pietro Catalano. A letto Florian Lan. Per informazioni info-cascinamacondo.com